In questo tutorial andremo a realizzare uno dei giunti presenti nella varia tipologia di giunti del CATIA ed in particolar modo il giunto chiamato pignone cremagliera. Quindi vogliamo che dalla rotazione di un elemento, solitamente una ruota dentata, che io qui ho stilizzato semplicemente realizzando questo elemento cilindrico, deve mettere in rotazione, in movimento, deve far traslare questo elemento, che trasla orizzontalmente, che è appunto la nostra cremagliera. Partiamo! Il primo elemento che andiamo a realizzare è il supporto, per cui avvia Mechanical Design, Part Design, e andremo a disegnare quindi il nostro supporto, che chiameremo appunto Support. Ok. Allora ci posizioniamo sul piano X ed Y, e sul piano X ed Y andiamo a disegnare un profilo ad L, in questo modo. Lo andiamo a quotare, quindi faremo in modo che questa distanza sia di 10 mm, così come questa distanza dovrà essere di 10 mm. Avremo una lunghezza di base complessiva di una trentina di millimetri ed avremo un'altezza complessiva di 80 mm. 80 mm, lo andiamo ad estrudere nello spazio e la nostra estrusione sarà un'estrusione di 200 mm in entrambe le direzioni. Quindi, l'estensione specchiata, diamo l'ok. Adesso, su questa faccia andiamo a disegnare un profilo che sarà un rettangolo, in questo modo, facendo in modo che questo lato e questo lato siano coincidenti. Avremo la coincidenza tra questo lato e questo lato ed avremo la coincidenza tra questo e questo. Anche questi due elementi dovranno essere coincidenti. e lo andremo a posizionare, faremo in modo che abbia una lunghezza complessiva di 150 mm. In questo momento. Adesso ci spostiamo nello spazio. Realizziamo una tasca. Ok. E adesso abbiamo a nostra disposizione questa tasca e l'andremo a specchiare rispetto a questo piano XY, quindi specchio della nostra tasca. L'elemento di riferimento sarà questo piano. Tasca. Ok. E ancora ci spostiamo su questa faccia e andiamo a realizzare su questa faccia uno schizzo. Il nostro schizzo in questo caso sarà un semplice foro, una tasca, una circonferenza. Dovremmo forare, ma va bene lo stesso con la tasca, caratterizzata da un diametro di 20 mm che dovrà essere posizionata ad un'altezza di 30 mm dall'assi orizzontale. E questi dovranno essere 30 mm. Ci spostiamo nuovamente nello spazio. Realizziamo la nostra tasca. Ok. Nascondiamo i piani principali e andremo ad apportare un materiale. Assegneremo un materiale, una vernice colorata, un colore rosso, applica materiale e ok. E salviamo. Chiameremo questo elemento supporto appunto. Dice di no, chiamiamolo su. Andiamo a creare adesso il nostro pignone. Avvia, mechanical design, part design. Pignone e ok. Spostiamoci nel piano Y e Z e nel piano Y e Z andiamo a disegnare due circonferenze. Quella più interna sarà caratterizzata da un diametro di 20 mm e quella esterna sarà caratterizzata da un diametro di 40 mm ed in più la estrudiamo nello spazio, la estruderemo di 20 mm. e adesso posizioniamoci nuovamente nel piano Y e Z e nel piano Y e Z andremo a realizzare un foro allungato, ad esempio, in questo modo con un diametro di 5 mm con questo asse coincidente con l'asse verticale in questo modo facciamolo più piccolo facciamolo di 2,5 e andiamo ad imporre che questa distanza sia di 20 mm. nello spazio andiamo a realizzare una tasca inverti direzione e ok adesso nascondiamo i piani principali e diamo un colore alla nostra parte sempre utilizzando delle vernici che potrà essere ad esempio un colore giallo ok perfetto e salviamo pignone salva l'ultimo elemento è la cremagliera mechanical design in part design in parte 1 che chiameremo appunto cremagliera ok ci spostiamo sul piano y e z e sul piano y e z andiamo a disegnare un rettangolo con centro nell'origine del sistema di riferimento in questo modo caratterizzato da un'altezza complessiva di 10 mm e da una lunghezza complessiva di 400 mm lo andiamo a distrudere nello spazio e l'estrusione sarà un'estrusione di 20 mm ok nascondiamo i piani principali nascondi visualizza e andiamo ad applicare al part body un colore utilizzeremo una vernicia ad esempio un colore acquamarina applica materiale e ok e salviamo realizzati i componenti andiamo ad assemblarli mechanical design assembly design e andiamo ad importare il primo componente che è il nostro supporto e lo apriamo e facciamo in modo che sia il supporto l'elemento fisso quindi lo fissiamo importiamo il secondo elemento il nostro pignone e andiamo ad imporre per il pignone un vincolo di contatto tra questa faccia del pignone e questa faccia del supporto più un vincolo di coincidenza tra questo asse l'asse del pignone e l'asse del foro nel supporto in questo modo allora come vedete ho commesso un errore quindi la distanza del foro all'interno del supporto dalla base non mi consente di inserire quindi tra la ruota diciamo il supporto la nostra cremagliera quindi interveniamo sul supporto su part body del supporto e su questa tasca quindi sullo schizzo della tasca numero 3 la tasca con cui abbiamo realizzato il foro nel supporto e spostiamo questo valore da 30 a 40 e diamolo ok ci risposiamo in prodotto e aggiorniamo adesso abbiamo la distanza per inserire l'ultimo elemento questa sarà la nostra cremagliera eccola qui e la andremo a posizionare in maniera tale da avere un vincolo di contatto tra questa faccia e questa faccia ok un vincolo di contatto tra questa faccia ad esempio e questa faccia e aggiorniamo e poi possiamo imporre una condizione di offset tra questa faccia e questa faccia l'offset iniziale lo poniamo pari a 0 ok realizziamo nella cinematica quindi digital mockup and kinematics andiamo a definire il nostro nuovo meccanismo in maniera molto semplice definiamo la parte fissa nuovo meccanismo crea meccanismo 1 scegliamo la parte fissa e abbiamo creato il nostro nuovo meccanismo eccolo qui meccanismo 1 con 0 gradi di libertà e adesso abbiamo bisogno di un unico giunto quindi nella sezione dei giunti andiamo a selezionare il giunto pignone cremagliera è un giunto particolare proprio adatto a questo caso e ci chiede di specificare due distinti giunti un giunto di tipo prismatico e un giunto di tipo di rotazione quindi andiamo a selezionare il primo giunto di tipo prismatico tra l'elemento mobile quindi tra la cremagliera e il supporto e quindi avremo bisogno per un giunto di tipo prismatico che dovremo creare due linee quindi la prima linea che è la linea del supporto e la seconda linea che è la linea della cremagliera e poi avremo bisogno di due piani uno è il piano del supporto questo e l'altro è il piano della cremagliera questo e abbiamo creato il primo tipo di giunto adesso andiamo a creare l'altro giunto che è un giunto di tipo di rotazione appunto tra l'asse della pignone e l'asse del nostro supporto e come piano potremo scegliere questa faccia del pignone questa faccia del supporto e andare ad imporre la condizione di offset quello per impostare proprio la distanza tra queste due facce e dare l'ok e adesso quello che dobbiamo fare è andare a definire il rapporto che esiste tra la rotazione e lo spostamento dell'elemento traslante per far questo dobbiamo specificare appunto il raggio quindi selezionando la circonferenza esterna del pignone automaticamente ci viene definito il rapporto questo significa che la distanza lineare che verrà percorsa dall'elemento traslante e diamolo ok lo possiamo definire sia per la lunghezza per il prismatico ovvero potremmo creare questo meccanismo sia facendo traslare l'elemento prismatico ma possiamo farlo anche definendo proprio la rotazione dell'elemento circolare facciamolo in questo caso tanto l'altro è uguale diamolo ok adesso è possibile simulare il meccanismo facciamo partire la simulazione del meccanismo 1 la facciamo partire come al solito tra 0 e 360 quindi lo manderemo in un'unica direzione inseriamo e in questo caso andiamo a creare un loop di questo tipo facciamo partire la simulazione e diminuiamo nella velocità ecco che cosa abbiamo creato quindi un movimento la rotazione dell'elemento rotante con conseguente traslazione dell'elemento traslante quindi ricordatevi esiste proprio un giunto dedicato che si chiama appunto giunto pignone cremagliera quando vogliamo realizzare questo tipo di caso come al solito spero che il tutorial vi sia servito iscrivetevi mettete mi piace e così via alla prossima ciao